Bene, sono Elisabeth Fasano e sono il Chief Marketing Officer di ICAM, azienda con oltre 60 anni di storia, oggi specializzata nella progettazione e produzione di sistemi automatici intelligenti per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita. Ringraziamo Logistica Efficiente per averci dato l'opportunità di intervenire oggi in questo webinar sull'innovazione e quindi oggi siamo qui con voi a cercare di immaginare il futuro della site play chain. L'innovazione è un valore fondante per la nostra azienda e vorrei partire proprio con una riflessione sul significato che la parola innovazione porta con sé. Di fatti nell'immaginario collettivo per innovazione si tende spesso a far coincidere quella che di fatto è l'invenzione e cioè la tecnica. In realtà se osserviamo attentamente la parola innovazione al suo interno è collocato un termine che azione che mette proprio in evidenza il suo aspetto performativo, cioè la sua capacità di agire, quindi di operare una trasformazione in atto. E oggi la supply chain è chiamata a ripensare le sue modalità di trasferimento del valore. Perché che si tratti di aziende manifatturiere o di aziende distributive, oggi un obiettivo comune è quello di distribuire il giusto prodotto nelle giuste quantità e nelle giuste condizioni, nel luogo giusto, nel momento più opportuno, nelle mani della giusta persona e al giusto prezzo. E' quello che i professionisti della supply chain chiamano il modello delle FTR, però ci riconosciamo un po' tutti anche da consumatori nel desiderare un servizio di questo tipo. L'obiettivo dunque della supply chain di rispondere in questo modo alla domanda di mercato si arricchisce di numerosi elementi di complessità. Complessità che, d'altro canto, offrono l'opportunità alle aziende di poter trasformarle in una leva competitiva. Oggi di fatto i supply chain manager sono chiamati a dover combinare e gestire nel modo più efficiente diversi processi, ovvero prevedere accuratamente la domanda, gestire, allestire ed evadere gli organi, programmare le consegne eventualmente in specifici slot temporani e considerando anche diverse opzioni di delivery, nonché gestire in modo efficiente alimentario. Quindi l'emergenza covid che stiamo vivendo ha aggiunto ulteriori elementi di complessità e pertanto è diventato comune lo slogan nel mondo della supply chain di intervenire per inalzare la capacità di resilienza delle catene di valore. Questo tema mette in evidenza l'importanza di intervenire su cinque priorità, ovvero la continuità operativa, le misure restrittive del lockdown e l'emergenza hanno messo in evidenza il rischio di una possibile interruzione delle catene di fornitura. La sicurezza e quindi l'idea di continuare a preservare le merci, ma soprattutto le persone anche dal rischio di contagio durante le fasi di movimentazione e trasferimento delle merci e dover rispondere a una domanda sempre più crescente di omnicanalità, quindi il dover gestire i flussi dei materiali dai diversi canali di vendita che le aziende stanno creando come touch point per i propri clienti, nonché perseguire gli obiettivi di efficienza intesi in termini di risparmio di tempi, costi ed errori e nonché il tema chiave della sostenibilità, quindi un'attenzione sempre più importante per l'impatto ambientale. Si parla tanto di rendere una supply chain resiliente, ma è un po' meno comune capire come si può rendere a tutti gli effetti la supply chain. Alcuni esperti in materia hanno identificato quattro pilastri della supply chain e che sono visibilità, ovvero l'importanza di poter tracciare in tempo reale lo stato dei materiali lungo tutta la catena, la flessibilità, la capacità di reagire in tempo reale ed eventuali cambi ed evoluzioni della domanda, la collaborazione, quindi il dover creare un ambiente collaborativo, un ecosistema integrato fra tutti gli attori che intervengono nella catena di fornitura e approvvigionamento, nonché il controllo in tempo reale sullo stato dell'inventario. Sono i quattro pilastri fondamentali per la creazione di una supply chain. D'altro canto, questo framework identifica anche quali sono i principali fattori che possano abilitare la creazione di una catena di valore. Si tende spesso erroneamente a vedere nella tecnologia, solo nella tecnologia una soluzione. In realtà la tecnologia è solo uno degli abilitatori della supply chain resiliente, ma che va affiancato anche da una revisione importante dei processi e da un intervento fondamentale sulle persone che appunto sono coinvolte. Quindi per poter affrontare il tema della trasformazione della supply chain abbiamo due tipologie di driver che appunto possono guidare questo cambiamento. Da un lato abbiamo le tecnologie dell'industria 4.0 che offrono un'opportunità concreta per rinnovare i propri progetti. Da un lato si ha a che vedere con delle aspettative in evoluzione della domanda dei nostri consumatori e che si sostanziano principalmente in questi nuovi modelli di acquisto dettati dall'esplosione del commercio online. La ricerca di un'esperienza tra i diversi canali fisici e digitali senza soluzione di continuità, quindi in maniera fluida ed integrata. Una crescente domanda di personalizzazione dei prodotti, il desiderio di poter avere la visibilità in tempo reale sullo stato delle proprie consegne e di poterle avere nel più breve tempo possibile e quindi un desiderio appunto di just in time. In ICAM abbiamo lavorato su questi concetti per integrare da un lato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dall'altro lato per rispondere in maniera molto pragmatica al bisogno appunto di mettere in piedi una supply chain resiliente. E dal nostro punto di vista questo cambiamento trova fondamento in un nuovo paradigma che prende il nome di FIGITAL e che si tratta sostanzialmente di un acronimo che mette insieme la parola FISICAL con la parola DIGITAL e che quindi nell'ambito della supply chain punta ad integrare in maniera davvero consistente il flusso fisico dei materiali, quindi la gestione del trasferimento dei materiali lungo tutto la supply chain, con l'intelligenza del digitale. Quindi un approccio che permette a tutti gli effetti di creare un paradigma integrato, collaborativo, che abilita la visibilità end to end lungo tutti i punti della supply chain e nonché che rende possibile anche l'adozione di un paradigma di distribuzione sostenibile. Con questo paradigma abbiamo dato vita a una nuova soluzione, una tecnologia che prende il nome di FIGIBOX e che trova poi nel mercato tre applicazioni verticali. Si tratta fondamentalmente di un sistema robotizzato, fruibile in modalità self-service H24 su 7, che automatizza e digitalizza le fasi di stoccaggio, distribuzione e vendita. Quindi si porta con sé tutti i benefici tipici di un magazzino automatico, ma integra anche le funzionalità di consegno e ritiro, nonché anche di vendita. e permettendo anche grazie all'integrazione e alla gestione software di poter provvedere a un replenishment più intelligente. Come accennavo si tratta di una soluzione che trova poi applicazione con tre differenti soluzioni. La prima soluzione è Safebox, che è la soluzione FIGITAL per la gestione dei materiali aziendali. È progettata per rispondere al bisogno di automatizzare le fasi di stoccaggio e di erogazione dei materiali all'interno delle proprie aziende e farlo particolarmente per quella categoria di beni ad alto valore unitario, per cui è necessario una distribuzione selettiva e controllata degli accessi, così come di quei beni ad alta rotazione, per i quali è fondamentale monitorare il consumo e gestire gli approvvigionamenti anche in tempo reale. Si tratta di una soluzione che permette di abilitare anche nuovi modelli di gestione dei materiali in partnership con i propri fornitori che mediante appunto questo spazio accessibile H24 su 7 in modo self-service possono mettere a disposizione i loro materiali con delle nuove modalità di vendita come quella del Consignment Stock e del Vendor Managed Inventory apportando quindi tutta una serie di benefici in termini anche finanziari per le aziende, così come una soluzione che può permettere e può essere considerata a tutti gli effetti un punto di accesso per gli spedizionieri, quindi per il ritiro e la consegna dei pacchi all'interno dell'azienda. La seconda soluzione della famiglia Fiji Box e Buy Box è una soluzione di smart vending progettata per rispondere alle sfide del new retail omnicanale. Si tratta appunto di una soluzione che automatizza le fasi di consegna, ritiro e reso di acquisti effettuati online così come una soluzione di smart vending, quindi permette di creare a tutti gli effetti dei punti di proximity commerce diventando col tempo anche una soluzione con un alto impatto di visibilità del brand e di comunicazione con i propri clienti. Ed infine abbiamo la soluzione City Box che è pensata per la logistica urbana sostenibile, in particolare punta ad efficientare la logistica dell'ultimo miglio offrendo alle città una soluzione per sostenere la mobilità delle merci e delle persone. Quindi un luogo dove poter creare i magazzini urbani di prossimità, un luogo dove potersi scambiare nell'ottica della sharing economy alcuni oggetti personali oppure per poter depositare in maniera temporanea i propri effetti come bagagli piuttosto che borte per muoversi liberamente all'interno della città. Si tratta di un nuovo progetto che trova spazio in Incam ma che vede già una prima realizzazione e mi fa molto piacere presentarla durante questo appuntamento dedicato all'innovazione. Il cliente con cui abbiamo realizzato la prima soluzione è l'azienda Aburt Italia, ovvero la filiale italiana della multinazionale tedesca, leader nella distribuzione di prodotti e sistemi di finissaggio e montaggio per professionisti dell'artigianato, dell'edilizia e dell'automotive. È un'azienda che ha a catalogo un ampio assortimento di materiali diversi, quindi oltre 125 prodotti diversi e vi mostro un breve video per darvi un'idea della soluzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il progetto per WURT prende il nome di WURT Automatic Store. Si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio touch point automatizzato, realizzato con la soluzione Buybox e che permette di automatizzare le fasi di vendita in loco, quindi di instant vending, così come il click and collect, ovvero il ritiro delle acquisti online. All'interno di questa soluzione sono gestiti oltre 6.000 referenze, ovvero 2.000 articoli ed è una soluzione che nei prossimi giorni sarà installata all'aperto a Somma Campagna, in provincia di Verona, presso l'azienda Cubi. Come potete notare, si tratta di una soluzione che trova spazio all'interno di un contenere ammovibile, che in questo caso è di 45 pollici, ma che è in realtà una natura altamente modulare. Quindi per WURT è stato necessario configurare la soluzione sulla base delle sue esigenze, tenendo conto che un punto vendita medio fisico della WURT contiene mediamente 9.000 referenze e che con questa soluzione siamo riusciti a gestirne 6.000. I materiali vengono stoccati all'interno di 357 contenitori e l'erogazione avviene mediante un punto in-out. Questo nuovo touchpoint FIGITAL è integrato con i sistemi e le tecnologie di WURT, quindi è un'interfaccia con l'app di WURT per la gestione degli ordini e dei pagamenti e in prossimità del punto in-out è installato un POS per il pagamento in loco. Quindi è una soluzione progettata per permettere ai propri clienti, in particolare l'artigiano, di poter effettuare comodamente i propri acquisti anche fuori dalle orari di apertura di un punto vendita fisico, quindi conciliando in maniera più flessibile i propri tempi di vita professionale e di vita privata. L'erogazione dei materiali avviene attraverso il punto in-out, come accennavo, che ha le caratteristiche di poter rendere accessibile in modo selettivo rispetto all'articolo che è necessario prelevare o rispetto allo scomparto in cui è necessario depositare un articolo. Il punto di erogazione è progettato secondo i criteri di ergonomie, quindi il funzionamento materiali alla persona garantisce la massima sicurezza per tutti gli utilizzatori e gli utenti che si interfacciano alla soluzione ed è progettato anche secondo i criteri del design for all, quindi rendendo accessibili i materiali anche a persone con difficoltà motorie. È possibile configurare su queste soluzioni in realtà più punti in-out, quindi in base alle tipologie di prestazioni che il cliente desidera effettuare. Lo stoccaggio avviene in contenitori, come accennavo, i contenitori sono disponibili in dimensioni e portate variabili con la possibilità di poterli scompartimentare in modo flessibile, nonché di cambiare anche nel tempo la configurazione per rispondere alle evoluzioni della domanda. È possibile integrare anche all'interno dei contenitori dei sistemi di ricarica, per esempio in questo caso per poter ricaricare gli utensili elettrici prima del loro utilizzo, quindi averli sempre a disposizione nel massimo delle loro performa. Per WURT abbiamo realizzato questa soluzione outdoor, in realtà all'interno della nostra gamma trovano spazio altre soluzioni anche per l'indoor, quindi l'idea è quella di offrire una soluzione a misura sia dei materiali da gestire che dello spazio a disposizione. Il funzionamento è molto semplice, quindi l'esperienza di acquisto del cliente di WURT avviene secondo un'interazione omnicanale, quindi il cliente di WURT potrà prenotare o acquistare un articolo a scelta sul sito web o sull'app di WURT, così come poterlo fare in loco, quindi direttamente nei pressi della macchina. Il sistema genera un QR code univoco legato alla transazione. Nel caso di prenotazione online e di non disponibilità del prodotto all'interno dello store, l'utente riceve una notifica quando il materiale è disponibile. Il prelievo alla consegna viene presso il punto in out, semplicemente leggendo in maniera automatica il QR code, dopodiché il sistema robotizzato interno consegna lo scomparto contenente il materiale da prelevare presso il punto in out e l'operazione è conclusa. Quali sono i vantaggi che apportano queste soluzioni? Innanzitutto il lato retailer, quindi per WURT, la possibilità di poter operare su un orizzonte temporale più steso, quindi di poter estendere le vendite H24 su 7, di offrire un'esperienza d'acquisto in linea con l'evoluzione della domanda, quindi di tipo omnicanale e in questo periodo di emergenza in modalità contact free, quindi tenendo conto anche dell'esigenza di distanziamento fisico. La protezione dei materiali, la soluzione si porta dietro tutti i vantaggi tipici di un magazzino automatizzato, quindi il deposito dei materiali. Il forecastment replenishment intelligente è reso possibile grazie al monitoraggio in tempo reale dei dati di vendita e la creazione di un modello distributivo sostenibile che permette anche di ridurre i tempi e i costi di replenishment, ma anche di offrire una soluzione di proximity commerce che permette anche di ridurre il total cost of ownership rispetto a un punto vendita di tipo tradizionale. Naturalmente i benefici non sono solo per il retailer, ma sono anche per il suo cliente che potrà accedere ai materiali necessari H24 su 7, potrà effettuare un accesso in totale sicurezza e quindi in modo semplice e rapido, riducendo anche lo stress della vita quotidiana. Nonché due ulteriori vantaggi sono quello di poter accedere grazie all'integrazione dei display multimediali e di informazioni estese sul prodotto, così come di avere in tempo reale un supporto multilingua. Prima di chiudere il mio intervento, vorrei mostrarvi un breve video di ICAM che punta a trasferirvi la visione su come intendiamo perseguire questo percorso intrapreso di innovazione della supply chain. Ogni giorno milioni di merci vengono movimentate nel mondo. Noi di ICAM siamo mossi da una visione. Avvicinare i materiali e i prodotti alle persone in modo rapido, sostenibile e sicuro. Che si tratti di allestire un ordine o di ripristinare le scorte, di ritirare o consegnare un parco, di vendere o acquistare un prodotto, o più semplicemente di depositare e ritirare un bagaglio, vogliamo custodire i materiali e le merci per renderli disponibili quando e dove servono, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Lavoriamo per costruire lo spazio giusto per la mobilità dei materiali e delle merci nella città del futuro. Per farlo progettiamo soluzioni automatiche per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita. Intelligenti come quelle di domani. Oggi Bene, come accennavo, siamo un'azienda che ha 60 anni di storia. Siamo molto conosciuti per aver offerto, aver aiutato i nostri clienti presenti in 50 paesi del mondo a ottimizzare alcuni processi intralogistici, in particolare processi di stoccaggio ma anche di archiviazione. Negli ultimi anni abbiamo trappreso un nuovo percorso guidati da una visione, ovvero rendere i materiali sempre disponibili quando e dove servono, per cercare di creare un modello di supply chain collaborativa, quindi di creare un ecosistema integrato. La nostra esperienza nel corso di questi 60 anni copre trasversalmente un po' i diversi settori merciologici e contiamo all'interno della nostra lista di clienti importante aziende come appunto adesso WURT, ma anche aziende di altri settori come nel settore del test e l'abbigliamento, come nel gruppo Louis Vuitton, piuttosto che Monnalisa, ma anche in altri settori come l'aerospaziale difesa, il farmaceutico e il mondo della meccanica e della meccatronica. Io resto a disposizione per eventuali approfondimenti e intanto vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.